Io stavo lavorando, faccio la musica con la Gertensi e ho parlato per me di fare il mio disco e ho chiesto a Riccino di Studio se conosceva qualche musica di Ligaro che ha presentato il mio disco e ci siamo in Fazer No, stiamo innamorati musicamente e abbiamo fatto musica molto semplicemente senza nessun tipo di contrastruttura mentale. Abbiamo fatto musica con la Gertensi e quindi spero che questo video di Vito si venga trasferito al mondo la musica che abbiamo fatto. Jenna, qual è il tuo primo sentimento di Stemma? Grazie a tutti. Sì, è stata così e non come dovrebbe essere. Bisogna secondo me in questo momento dove c'è molta conclusione, molti geni, lasciarsi un punto che è il tuo pensiero che io mi piace essere. E se uno fa, arriva. Magari arriva nel fondo e arriva al fondo. E soprattutto si diverte da fare. E questo per me è senzale per andare a fare questo lavoro.